15 stampa in bianco e nero di formato 70%, si intitola Ferite di guerra, la mostra fotografica di Pino Rampolla. Perché l'idea di questa mostra? Beh, questa mostra è nata in questo periodo qua, chiaramente, di guerra. Ho pensato, avevo queste foto scattate diversi anni fa e le ho tirate fuori e in effetti chi le ha viste si è emozionato. Abbiamo pensato insieme di organizzare questa mostra, insieme al municipio e insieme alla Prologo di Ostia. E quindi sono tutte immagini bianco e nero, realizzate in Iraq nel 2008. Immagini emozionanti, io nella mia carriera ho visto di tutto, quasi 60 anni di fotogiornalista, insomma ho visto di tutto. Ma queste immagini veramente sono toccanti, la macchina quando le ho fatte vibrava, le mani vibravano, mi sono emozionato sinceramente. Che contesto c'era in quei paesi quando hai fatto queste fotografie? Beh, le foto sono viste in due, in Iraq e anche in Malawi. Sono anche in un campo del Malawi, un campo profugo del Malawi, dove c'erano centinaia di bambini abbandonati, orfani. Poi ti guardavano con soliti che bucavano la macchina, bucavano il cuore. E poi questi qua dell'Iraq, li ho messi insieme, proprio che sono i danni della guerra, la sofferenza. I bambini che c'entrano con la guerra, non c'entrano, si porteranno dietro questi bambini, lo scoppio, i rumori, le sirene. Pensa, come diceva Papa Giovanni Paolo II, diceva che i bambini sono l'unica speranza, i bambini sono, i bambini che hanno visto la guerra sono l'unica speranza di pace. E questo è il messaggio che voglio dare. Ecco, non è casuale infatti l'organizzazione di questa mostra in questo momento così particolare, tu con l'occhio anche di questa esperienza, cosa puoi dire? Beh, posso dire che vedere questi bambini che muoiono ogni giorno, proprio fino a ieri sono morti 109 bambini in Ucraina, 109 bambini e tantissimi feriti. E bisogna fermare questa guerra assolutamente in qualche modo, i bambini non devono pagare questo prezzo, nessuno deve pagare questo prezzo della guerra. E quindi attraverso queste immagini voglio sensibilizzare le persone, voglio le coscienze dei cittadini, la gente deve vedere cosa da vivo, da vicino, che succede ai bambini. E quindi questo è il mio messaggio, un messaggio di speranza. Una mostra che non è stata una semplice esposizione, ma in questo particolare momento un invito serio a riflettere. Da Ostia per Canale 10, Alberto Dabin.